Presidente Fedriga, io sono Friuli Venezia Giulia, un marchio che era partito come una scommessa, adesso è diventata una realtà la presenza all'interno del Città Fiera per essere ancora più vicino ai cittadini. Poi devo dire che è un marchio, quello sull'agroalimentare, quindi sia sui prodotti che su ovviamente le aziende che lo utilizzano, che ha anticipato di molti tempi, perché è nato prima del Covid, anzi durante il Covid, quando ancora forse la sensibilità sulla sostenibilità, sulla tracciabilità era poco evidente, oggi è un marchio che invece va in quella direzione, una direzione che a livello internazionale viene guardata con grandi interessi e grande attenzione. Oltretutto ovviamente è un valore aggiunto per la promozione delle eccellenze della nostra regione e sono contento che all'interno di Città Fiera ci sia uno store come questo, perché tutte le aziende che ci hanno creduto e che ci crederanno possano fare il sistema e presentarsi al mercato in modo univoco con la sommatoria delle eccellenze, che è il valore aggiunto, cioè essere in grado di fare squadra. La Confindustria ha oggi dati non molto ottimisti per i prossimi due anni, però l'alimentare è quello che va meglio di fatto. Sì, devo dire che la situazione globale a livello economico è pericolosa dalle previsioni oggi in essere e questo ovviamente ci preoccupa e non a caso abbiamo messo in campo delle misure anche come amministrazione regionale di supporto alle imprese, di supporto al mondo del lavoro e continueremo a farlo anche nella prossima legge di stabilità. Dall'altro lato diciamo che in questa situazione difficile il lato positivo è che invece negli anni pregressi la regione Friuli Venezia Giulia è cresciuta molto di più rispetto alle aspettative, siamo i primi in Italia con la crescita di PIL e abbiamo il più alto numero di occupati da quando c'è la serie storica di Lista. Questo ci permette di affrontare una situazione difficile ma con le spalle un po' più larghe. Assessore Zanier, lo storio sono Friuli Venezia Giulia all'interno del centro commerciale Città Fiera, un modo per essere ancora più vicino ai cittadini del Friuli Venezia Giulia con un marchio che caratterizza il territorio. Sì, è anche il passo finale diciamo così di un percorso che ha visto nascere il brand di Ossona Friuli Venezia Giulia, specialmente quello legato all'agroalimentare e quindi alle aziende della filiera regionale e ai loro prodotti. È questo il momento in cui anche il consumatore può trovare in un'unica soluzione quelle produzioni ma è anche il segno che riuscire ad aver dato una connotazione riconoscibile e univoca ai nostri produttori e alle nostre produzioni riesce a dare un vantaggio poi anche a coloro i quali devono da un lato trovare il prodotto in commercio, cosa che non è sempre così semplice con le produzioni, specialmente quelle di nicchia, e dall'altro agli operatori commerciali di poter godere del vantaggio di essere certi che quello che vanno a distribuire è un prodotto che è realmente sostenibile sia dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale e valorizza le ferie regionali.